Una vittoria importante per il nostro percorso, una partita che è complicata come tutte quelle che si affrontano in questo campionato però siamo stati bravi ad approcciarla bene, ad andare in vantaggio, a meritare questo vantaggio e a meritare nel finale anche la vittoria facendo un primo tempo di sostanza e di qualità e un secondo tempo in cui a tratti siamo stati molto bravi a saper gestire la partita quindi complimenti a tutti i ragazzi perché c'erano diversi ragazzi che ultimamente non avevano giocato tanto ma hanno dimostrato di farsi trovare pronti e questo per me è un segnale importantissimo. Stiamo facendo risultati, siamo contenti, venivamo da tre vittorie, poi avevamo fatto tre pareggi e subito si parla di crisi o quant'altro invece per me bisogna essere bravi a mantenere l'equilibrio giusto perché è un campionato difficilissimo in cui anche i pareggi sono importanti per muovere le classifiche e dopo una prestazione come quella di oggi per me siamo stati bravi ad ottenere un risultato importante perché ne avevamo bisogno ma come ho detto tante volte questa non era un bivio, non era un'ultima spiaggia, non era una partita decisiva è una partita importante in cui abbiamo ben figurato e dobbiamo essere bravi a continuare a fare quello che stiamo facendo perché sicuramente la continuità è l'elemento più importante per andare avanti. Sono contento dei ragazzi che non giocavano da tanto e che sono stati in grado di fare una grande partita perché quando la squadra si esprime in questa maniera sicuramente il merito è di tutti che si mettono a disposizione della squadra, che si sacrificano quando c'è da sacrificarsi perché a tratti c'è stato bisogno anche di sapersi sacrificare e che poi traggono beneficio perché ovviamente se la squadra riesce a esprimere è un buon gioco, sicuramente chi ne trae beneficio sono gli attaccanti e sono contento anche che oggi siano andati a segno tutti e tre perché è un segnale importante, ce n'è bisogno e credo che arrivino i gol quando meno si cerchino quindi siamo stati bravi a giocare da squadra, da gruppo e meritare questa vittoria importante. Ultimamente non eravamo stati bravi soprattutto in casa a indirizzare le partite come volevamo e per noi oggi era fondamentale riuscirci, quindi siamo partiti bene, abbiamo sbloccato la partita, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire e abbiamo creato occasioni quando c'era da crearle, quindi credo che abbiamo legittimato il risultato nell'arco di tutta la partita. Domani vediamo, facciamo la conta, qualcuno dovrebbe rientrare dalle nazionali, vediamo com'è la condizione fisica perché oggi è stata una partita dispendiosa, abbiamo una partita tra pochi giorni però come dico sempre è stato importante il segnale che mi hanno dato i ragazzi oggi e mi auguro che ne possiamo dare un altro mercoledì perché sicuramente è una partita altrettanto difficile.